...vvenderlo, va bene? È troppo alto, non ce la faccio. Oscar, ti spiace, dammi una mano. Scusa, ma se non ci arrivi tu, come puoi pensare che ci riesca io? Che ne dici se provassi a trasformarti in qualcuno più alto di me? Già, è vero, sarebbe un'idea. Lascia stare, vengo io ad aiutarti. Ma è chiaro che nessuno fa niente per niente, vero tesoro? Ecco, io vorrei che tu... Che io cosa? Nulla, che tu mi stia a guardare. Ciao. Tu lo conosci, Bullman? Io no. Oscar, tu lo conosci. No, e tu? No. Come te la passi, Bullman? Ma come fai a conoscere il mio nome, scusa? Salve, genio, sono contento di vedere che stai bene. Non sei cambiato di una virgola. Noi ci conosciamo. Dove sono, Krillie, Anku, Tensing e Riffa? Come vai non sono qui? Ma... ma... ma tu sei... Non è possibile. Tu sei Goku? Certo, che altri dovrei essere? Non vi capisco davvero. Uffa! Finalmente! Era ora che la smettesse di piovere. Ma sei proprio Goku in carne ed ossa? Ve lo giuro. Ah, forse è colpa di questo turbante se non mi riconoscete. Allora sarà meglio che me lo tolga subito. Ottimo. Eccomi qua, adesso mi riconoscete. Sono io, sono il vostro Goku. Signora, scusi. Sì? Il mio pallone. Sì, scusa. Grazie mille. Sbaglio o vi siete rimpiccioliti in questi tre anni? Veramente sei tu che sei cresciuto? In effetti mi sono leggermente alzato. Io direi molto. Adesso capisci perché non ti abbiamo riconosciuto subito. Sei così diverso da tre anni fa. Sei grande. Porca! Ma che cos'hai? Le labbra sono tutte rosse. Hai un'irritazione, eh? Goku! Quello che vedi è solo un po' di rossetto. È cresciuto il fisico ma non il cervello. Avvertiamo tutti coloro che volessero partecipare al torneo che le iscrizioni stanno per chiudersi. Goku, sarà meglio che tu ti dia una mossa. E dimmi, Krillie e gli altri si sono già iscritti, vero? Temo che non siano arrivati. Mi dispiace ma io vado. Non riesco ancora a crederci che quello sia il nostro Goku. Oh, non dirlo a me. Non è solo cresciuto ma è anche diventato un tipo incredibilmente affascinante. Scommetto che Yanco è diventato ancora più carino di Goku. Lo pensi veramente? Oh, vatti a fidare delle donne.